Il 30 novembre e primo dicembre Cagli ospita Tutto Fungo, prima edizione di una rassegna che raccoglie l'eredità culturale di precedenti eventi organizzati già da tre anni in un territorio in cui si raccolgono funghi 12 mesi l'anno. Un viaggio a 360 gradi su un prodotto che rappresenta un vero fattore culturale del territorio, declinato in una due giorni che spazierà da una domenica alla ricerca del fungo, alla presenza di esperti, fino a una mostra micologica passando per arte ed enogastronomia. Non parleremo del fungo soltanto da un punto di vista diciamo enogastronomico ma parleremo del fungo da un punto di vista anche artistico, culturale, ambientale ma anche a livello proprio medico e curativo. Quindi proprio sono tutte le possibili sfaccettature di questo micete che ha un'importanza fondamentale per il territorio di Cagli che può essere anche racchiuso in Cagli Fungo tutto l'anno. La rassegna è stata presentata nella sede di Confcommercio Marca e Nord, partner consolidato di Cagli all'interno della rete degli itinerari della bellezza, ma anche dell'artista Giovanni Gaggia che il 30 novembre modererà il talk e il food incontra l'arte. In collegamento durante la conferenza anche il critico enogastronomico Antonio Paolini per parlare di funghi che saranno trattati anche dalla maestria di grandi chef stellati in una cena spettacolo al ristorante le fontane. L'intento è quello di creare proprio una manifestazione ricorrente sul tema e l'amministrazione quest'anno si avvalsa di collaborazioni molto importanti tra le quali un'associazione che ha preso in mano diciamo la collaborazione nella gestione di questo progetto ma soprattutto ci siamo circondati di persone molto esperti nel settore cioè vale a dire di micologi, di giornalisti enogastronomici, di artisti che lavorano nel settore appunto dell'arte perché ci sarà anche una mostra in plein air molto interessante. È un programma molto molto ampio e cioè dal sabato mattina 30 di novembre fino alla sera del primo dicembre a chiusura addirittura uno spettacolo musicale in collaborazione con l'orchestro Olimpia e quindi diciamo che è una manifestazione che vuole andare a scavare come il fungo è declinabile sotto vari profili insomma.